Dopo la sentenza del Tar Sardegna, che ha riconosciuto Eni, quale responsabile dell'inquinamento della falda acquifera nell'area Carbondotto, in zona industriale di Porto Torres, Paola Deiana, parlamentare del Movimento 5 Stelle e capogruppo della Commissione Ambiente alla Camera, ha presentato al Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare due interrogazioni relative alla centrale termoelettrica di Fiume Santo, chiedendo al Ministro se intende avviare una serie di accertamenti, per sapere quali siano i risultati dei piani di monitoraggio prescritti, se risultino al Ministero e quale sia l'eventuale entità dei danni provocati dalla caduta della ciminiera in seguito alla sua demolizione avvenuta con esplosivo, le richieste di Deiana. E ancora, quale sia lo stato di avanzamento del piano di disattivazione e del piano di caratterizzazione delle aree oggetto degli interventi di demolizione, quale sia lo stato di predisposizione del progetto per la costruzione della copertura del carbonile, se sia stato depositato un qualche piano di rinaturalizzazione delle aree e se nel mese di maggio 2020 sono iniziate le operazioni di recupero di oltre 800 tonnellate di carbone disperso negli anni nei fondali del porto industriale di Porto Torres, in particolare davanti alla banchina che serve la centrale elettrica di Fiume Santo, conclude l'esponente del Movimento 5 Stelle.